Nella sala Capograssi dell'Agenzia per la Promozione Culturale è stato presentato il libro Giuseppe Papponetti, un intellettuale della grande stirpe, a cura di Ezio Mattiocco. Com'è nata l'idea di questo libro che parla di un intellettuale nostro? Quando ci giunse la notizia, noi stavamo in riunione, era proprio il giorno in cui morì, il giorno dopo. E allora mi dissero di commemorare brevemente il professore. Io lo feci e raccontai quello che racconti in premessa al libro. Lui mi aveva parlato di questa sua idea di avere questa bibliografia e di pubblicare questo inedito che pubblichiamo nel libro. Allora Capezzale e gli altri amici della deputazione accettarono immediatamente l'idea, mi dissero però ci devi mettere insieme una bibliografia per farne una cosa più completa. Riportai la cosa in seno alla nostra Università della Liberità per stabilire un contatto, una collaborazione tra i due enti ed è nato così il libro. È stato prodotto anche finanziariamente dalla compartecipazione, dalla deputazione di Storia Patria con la Università della Liberità. Più il supporto assai, piuttosto congruo di un amico di Pino che possiamo anche dirlo, Franco Lacifida. Presente il professor Francesco Mercadante, il sindaco Peppino Ranalli, lo storico avvocato Landrosciuba, il dottor Franco Lacifida e tutta la sulmona culturale. Il libro Edizioni Colacchi e l'Aquila si presenta in veste elegante e raccoglie gli scritti di amici che sono stati molto vicini a Giuseppe. È stata curata la bibliografia che stava molto a cuore al compianto intellettuale che in verità ci ha lasciato troppo presto. Fra gli amici più cari, Franco Lacifida, il quale ha voluto fortemente questo libro, ha scritto proprio per un amico. Dopo le indimenticabili manifestazioni promosse da enti ed associazioni culturali per ricordare la figura e l'opera di Giuseppe Papponetti, scrive Lacifida, bisognava chiudere il cerchio realizzando l'opera alla quale Pino teneva di più la sua bibliografia, alla quale lui stesso avrebbe voluto dedicare le ultime premurose attenzioni. Malida ed esauriente la presentazione di Lisa Ciccone, ricercatrice presso l'Università di Bergamo. Interessante quest'ultimo viaggio di Ezio Mattiocco e la presentazione di Walter Capezzali. Belle le caricature di Mario Majorano. È stato anche presentato un video a cure di Fabio Majorano con una intervista a Giuseppe Papponetti. Presente il figlio Ernesto Papponetti che abbiamo intervistato. Per me oggi è stata un momento, un'occasione importante di enorme piacere, ma soprattutto un ripercorrere il mio privato, il privato con papà, con la mia famiglia e un ripasso di tutto ciò che vedevo a casa, nella fucile, nel backstage, di preparazione di tutte le opere, gli interventi, le programmazioni dei convegni, l'instancabile attività e di cui io fino comunque all'età scolare, a 19 anni, ero indirettamente partecipe.